Ecco l'incontro, lo stiamo registrando, i tre marchi, vi facciamo i tre marchi dell'alumni meeting, dopo soprattutto il grande battesimo, il giuramento di santi bicchieri, gli eccoci riuniti di nuovo in piedi a Boroglio. Lui è un incarico fondamentale. Chi è? L'incarico però me l'ha conferito. Silenzio. Iniziamo l'apprendo. Siamo in un po'. La prima attiva è in treno. Venevetto. Documentiamolo. Veneto. Campobasco. Bologna. Di Bologna. 20 anni. Camerino. Wow che buono. Documentiamo, documentiamo. qualcuno il turra vediamo un po' è un evento turistico attenzione una rima una rima al volo una rima per il turra per il turra? come cazzo faccio con il turra? tu sei un biciur turbi giur non c'è troppo cazzo qualcosa da dichiarare? c'è turra? pur qui abbiamo i responsabili ne scappa una qualcosa da dichiarare alla storia di essere aiuta voglio scappare oh my god lasci un po' aperto per la luce io passerò alla storia per la rompipale la più tediosa e antipatica di SN Bologna ma cos'è SN Bologna? cos'è SN? cos'è SN? una domanda troppo difficile non c'è SN? prendi un'altra per la canela si mi dici grimi non passe tu lo fai forte non va lui a Siena non passe Siena Siena dove siamo qua? presidente la maglietta la maglietta la maglietta jazz jazz ma dove stai? ma dove mi dici? c'è c'è caldo c'è caldo che maglietta c'è SN Taurino Erasmus Taurino tutti sponsorizzati condomi giustamente gli sponsor Marco ragazzi 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 facciamo E per chiudere, visto che ormai siete quelli che fanno la puntata, la seconda puntata Cosa vuoi chiudere? Tieni la aperta, perché chiudi, si chiude un capitolo E se ne aprono mille Un commento, dai! Dove siamo? Dove siamo? Almeno domani! Io ancora non lo so E che stiamo facendo? Stiamo aspettando che si apra la plena Murra! Non si è Murra! Marco, perché la cosa è sempre meglio che io mi chiede Internet non va! Ciudiamo su... Valery! Eccomi non ne... E se ne vale un problema, come abbiamo avuto ultimo, non è riuscito a partire Il grande problema è che Valery ha il ciclo C'è qualcuno contrario? Se ne vale un problema, come abbiamo avuto l'idea stasera Sì, quindi non mi ha avuto l'idea Però è il caso di questo, per certo